Possiamo fare di meglio No waste Direi nettamente meglio Patatina, lime e peperosa Però molto più fighe Patate Con la buccia sono meglio Punto e basta Tagliamo belle fini Se avete una mandolina usatela Più sono sottili meglio è Giù in acqua fredda finché non perdono l'amido Mettiamole su un canovaccio Arrotoliamo E asciughiamo bene Olio di semi in pentola E quando è caldo giù con le patate Un po' di shakey shakey non guasta Se avete uno di questi usatelo Ma va che bellezza Scogliamole su carta assorbente Peperosa in un mortaio Spacchiamo tutto Giù in una ciotola Un po' di sale maldon E abbondante scorza di lime Ovviamente shakey shakey Andiamo giù con le patatine E via di nuovo di shakey shakey Beh sono bellissime Mettiamole in un cestino E all'ultimo secondo Un goccio di succo Di lime Quispy test Questo stravinto Ma so che conta il gusto no? Meh Direi che abbiamo palesemente vinto